50 euro un film? Siamo pazzi? Ah, siete... Sto registrando? Bene. Benvenuti ragazzi in una nuova puntata di Octodead. E ora eravamo rimasti che dobbiamo fare cose nel supermercato. Dobbiamo prendere i cibi. Il ultimo sports johnson cereal. No. Mi hai rubato i cereali? Ho spaccato addirittura il coso? Vada a vedere che belle cose che ci sono di là. Vada, vada. C'è, ho preso una marmellata. Ah sì, ma levati. Giuro non la sto guardando. Sto guardando in giro. Se l'ho fatta. Fuggiamo. Fuggiamo. Che cosa sta... No. Mi sono incastrato. Ah, mi sono messo gli occhiali. Non vedete quanto sono sexy? No che non vedete. Però secondo me sono meglio questi. Dai. O meglio. E come si dovrebbero mettere? Non si mettero. Fantastico. Vabbè, teniamoci questi. Ma tu levati. Poi la donna adesso mi cerca per stuprarmi. Abbiamo detto che la pizza è qua dentro. Solo che sono ghiacciate le porte e io sono handicappato. No, 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 no. Io non sto facendo niente. Lo giuro. Io sono un bravo cittadino. Non sto facendo una beata minchia. No. Octodead. Mollalo. Ok, ragazzi. Forse ho capito. Ho capito come si fa. Ho capito una minchia. Ho capito. Voi avete capito? Io no. Ma perché? Non si possono spostare gli oggetti? A parte questi. Ce l'ho quasi fatta, ragazzi. Ragazzi, che pro. Che proezza. Che proezza la minchia. Che proezza. No, dai. Ma dai, ce l'avevo fatta. Ecco, appiccicati. Bravo, sì. Forse adesso ho capito bene come si gioca a Octodead. Ok, sto scherzando. Non ho capito. Accidenti. Uh, che... Che... Maronna mia, che pro. Mi stanno aspirando. Aiuto. No, non voglio. Guardate. Si vedono gli occhiali. Ci sono i fantasmi. Io non ho fatto niente. Ricordatevi questa frase. Io non c'entro niente. Ma levati. Che ti vuole? Ok, allora. Andiamo in fondo. Salve. Io non c'entro niente. Sono mascherato. No, voglio qualcosa. Non me la dà, bene. Ehm, andiamo avanti. Che cosa vuoi, te? Che ti fanno scazzare... Scaffare di Minecraft in Octodead. E sta figo, ve lo dico. E' proprio figo. Però... Ecco. Ha preso un cubo. No, non lo prendo più i cubi. Non mi piacciono i cubi. Cioè... E levati. Deve io tirare via il cibo da qua sopra. Ea. Grazie mille. Ragazzi, vi dico già... Che c'è una cosa difficile da prendere. Questa. La lattina di soda. E' difficilissima da prendere. Perciò può darsi che farò questo video. E nel prossimo mi troverete già con la soda. E alè. So finito mezzo reparto Apple. Mezzo reparto Ananas. Evviva la meta d'oro. Ok ragazzi. Ci serve solo la soda. Spacchiamo tutto. Sì, lo so che mi sento osservato. Via sta roba. Via. Non mi serve niente. Allora. Ricordarsi perfettamente come camminare. Allora. Si deve mettere un tentacolo qui. E poi un altro... No. 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 Oddio. Ragazzi. Io ci sto provando. Ve lo giuro. Ragazzi. Questa è una cosa troppo però. Calmati Octodead. Che non voglio morire. Non lo posso prendere da qui? Merda. Cadi. No. Cazzo. Perché? Perché è recapitato a me? Sì. Non ti inchiaffettare le scatole. Grazie. Non succederà mai più quella cosa stramega epica che ho fatto. Perché? A me. Perché? Oddio. 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 Ragazzi. Ragazzi. Sapete che vi avevo detto che ero bloccato, no? Eh. Oddio. Ragazzi. Ero proprio qua che ero bloccato. E' per questo che non sono riuscito ad andare avanti in Octodead. Forse. No. Non piangere. Ci riusciremo. Non piangere. E poi... Sì. Sì. Oh ragazzi. Che bello. Il sushi? Il sushi? Mio. Dov'è? Qua? Ok. Vengo a prenderlo. Bello sushi. Grazie. Grazie. Ragazzi. C'è il nostro vicino cuoco che ci vuole stuprare. O scappiamo o finisce un pochino male. Dov'è che devo andare? Che non capisco niente. Ci sto raggiungendo. No. Non mi posso bloccare proprio qui. No. L'uscita. Sì. 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 Ah. Amore. Ciao. Cosa? C'è qualcosa di oddio. C'è qualcosa di oddio. C'è qualcosa di oddio. Ok. Va bene. Devo andare a pagare. Ok. Vedi come sono bello con questi occhiali. Ciao bambini. Vedete ragazzi. Io sono talmente bello. Mi sa che ho preso un pochino male. L'hai presa un po' male Octonet? Non lo so. Cioè. Io piedo. Poi se non l'hai presa male. Grazie. Se è presa male. No. Non ci posso credere. Non riesco a farla fare. Ci riprovo. Ah ho capito. Mi sa che. No ho capito niente. Forse l'ho già fatto. Dai. Dammi la pizza. Ah si? Wow. Grazie. Ehm. No. Non il latte. Il latte l'abbiamo già fatto. I cereali. Questo non ci siamo riusciti. E poi ragazzi. Come fa? Sapere che fa? Guardando dall'altra parte. Mi chiedo. Secondo me manca qualcosa eh. Ma. Ehm. Carrello? Serve il carrello? Eh. Check out the front. Check out the front. E ho capito check out the front ma. Non c'è nient'altro da cercacciare. Lì come cacchio si chiama. Ragazzi ci manca soltanto la scatola. Nessun problema è che non ce la dà. Non ci dà sta scatola. Torna qui. Ecco. Questo qua lo prendete? Sì vero? No che no lo prendete. Ehm. Prendi la. Prendi quella scatola. Di cereali. Bravo. Ora vai alla cassa. Si vede che questo qua abbiamo fatto. Ma allora cos'è che manca? Magari qualcosa al cioccolato? Che ci fa qualcosa al cioccolato là? Din don din don. Din don din don. Gioca anch'io. Amore. Gioca anch'io. Fammi giocare. Bimba minchia. Ah. Ecco cos'è che ci manca ragazzi. L'ho vista mentre venivo di qua. La mela d'oro. Eeeh visto? Eeeh mi chiedevo anch'io dove fosse. E poi l'ho scoperto. Era. In fondo. Al supermercato. Ragazzi. Faccio questo. Faccio passare i filmati. E stoppo il video eh. Ehi. Dammela. Perché non mi dai la mela? Ridommi la mia mela. No. Ho faticato tanto per averla quella mela. E ora non me la dai? A me serve. E' essenziale per vivere. Che cos'è quel coso? Non me ne frega. Dammela. Ragazzi. Se vi chiedete se sono handicappato. Sì. Lo so. Ah. E perdonatemi se magari non ho fatto. Ah. Sì. Finalmente. Ma guardate come siamo belli con quei cazzo rucchiali. Eh? 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 To the car, kid. Yay! I want to see a snuggle fish. I want to climb something condemned. Honey. It's really simple. You can come to the aquarium with your family. Or you can walk home alone. Come on, dad. Come on, dad. What are you waiting for? Non voglio venire all'acquario. Oh. Che palle. Grazie a voi, ragazzi. Sono riuscito a superare questo livello. Non ero mai arrivato all'acquario. Non so cosa potrebbe succedere. Lo ammetto. Non so cosa potrebbe succedere. Ah, e scusatemi se non ho fatto video in questi giorni sul pc. È che mi si era rotto. L'ho messo a posto e ora parto come un matto. Oh, dìo. Octopus. Perché? Oh, dìo. Ragazzi, che bug. Avete visto? Non si vedeva la moglie. C'era la telecamera che... Che volteggiava da sola. Bene. Ok, ragazzi. Per me ci possiamo salutare qui. Continueremo la prossima volta. Saluta. Ciao. Commentate. Mettete mi piace. E iscrivetevi. Tu che cacchio mi vieni addosso. Ciao a tutti, ragazzi. Al prossimo episodio.